E elenca il maggior numero possibile i capellovi di regione Firenze E' Aosta Aosta? Frigene No! Come Frigene? E' ripartita benissimo Il cazzo è senza Frigene! Dai questo Ma è un codice? Zotto quello che ha creato il cerchio Il signore che ha creato il cerchio Il signore che ha Che cazzo vuoi dire? Qualcosa di globale Tipo Ma è Einstein Questo è Einstein Per i regali Ecco Gesù Cristo Vediamo che Scusa Le bottiglie Se Non ho portato rispetto Al loro Modo di essere Questa è la reincarnazione di Gesù Cristo Unito con Platone